buongiorno a tutti i carissimi amici di no li croci caccia e pesca oggi siamo a caccia sabato 15 dicembre 2012 tra poco finisce il mondo quindi sono ultime giornate di caccia questa mattina siamo a caccia di tordi in un bellissimo posto che ho trovato in solitudine su ebay stava poco lo compro e ora si va si fa una giratina e vi mostreremo la bellezza di questi posti eccoci ritrovati con una preda qua si va di là su chi sfatto senti i merdi senti i tordi fitti a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carissimi amici, siamo arrivati al posto, c'è una brutta notizia, è piovizia, quindi la telecamera... Ti è arrivato un messaggio? Sì, ora si sta riprendendo. È giusto. Siamo arrivati qui ma è piovizia e la telecamera la lasciamo in macchina. Ora sicuramente lepri, fagiani, caprioli, sciglioli, aeroni, tutto. Elicotteri. Comunque facciamo sapere appena torniamo. Tanto è un pezzettino piccino e si fa veloce. Eccoci ritrovati, siamo arrivati a casa. Giornata di caccia finita, è andata bene. Non ti lamenta. Non ci lamentiamo per niente. E niente, prossima giornata andremo a pesca. Dedicato alla pesca. Se il tempo lo consente. Ci lo permette. E vi porteremo in un posto davvero, davvero, davvero fantastico. Tempo permettendo. Il nostro socio ci è stato e ha fatto delle belle pescate. Quindi ci vediamo alla prossima puntata di Noli Croce Caccia e Pesca. Seguiteci sempre. E ciao Bigonzi. Bigonzi! Saluti alla mamma di tutte le mamme. Ciao mamma. Ciao mamma.